oh matti portami la bussola da 10 la mascherina e i guanti la mascherina la mascherina la mascherina la mascherina la mascherina Oh, adesso sto meglio, si è divertito, si è divertito, si è divertito, era meglio andare a lavorare. Ciao ragazzi, un incredibile sin team, vi auguro una buona quarantena, mi raccomando, stiamo a casa, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao.